Buongiorno e benvenuti al GRD in cronaca, in studio Giulia D'Argenio. Amministrative 2021 svolta nel centro-destra, per il sindaco di Bologna si pensa a un civico. In una intervista al 15 l'assessore Matteo Lepore disegna la città di domani. Economia, presentato il rapporto di Banca Italia per il PIL del Nord-Est, previsto un calo del 5%. Basket, salta la panchina di Obradovic, il francese De Colo potrebbe arrivare in bianco-nero. Politica, dopo l'apertura del responsabile regionale della Lega Ostellaria, un candidato civico per le elezioni amministrative del 2021, il centro-destra bolognese si compatta e spunta l'ipotesi Galletti. I dettagli nel servizio di Federico Gonzato. Un candidato civico per il centro-destra bolognese, dopo l'apertura da parte del responsabile emiliano della Lega, Andrea Ostellari, il fronte cittadino dei moderati, si compatta attorno a un candidato sindaco estraneo, a logiche di partito per le elezioni amministrative del 2021. Non abbiamo preclusioni, quel che conta è la competenza e l'amore per la città, dice Paola Francesca Scarano, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale. Da Forza Italia il sì arriva dalla consigliera regionale Valentina Gastradini, che non si sbilancia sui nomi, ma non nasconde la propria simpatia verso l'ex ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti, una figura che non convince tuttavia gli alleati. Secondo la leghista Scarano, Galletti sarebbe infatti incompatibile con l'identità del Carroccio, mentre per Manes Bernardini, due volte candidato sindaco di Bologna, per la città non servirebbero soluzioni, catto comuniste. Da qui a settembre gli occhi sono puntati però su Imola, dove il centro-destra è chiamato al primo vero banco di prova, dal quale si capirà anche il futuro dei moderati all'ombra delle due torri. L'assessore alla cultura del comune di Bologna, Matteo Lepore, guarda al futuro politico della città. Una realtà più inclusiva, sostenibile e ambiziosa è quella che immagina nell'intervista esclusiva al 15, il periodico di Incronaca. I dettagli nel servizio di Elisa Toma. Una Bologna sempre più inclusiva, green e in una parola grande. E questa è la città del futuro che immagina l'assessore Matteo Lepore, intervistato dal periodico 15 in uscita oggi sul sito di Incronaca. E se non è arrivata un'apertura ufficiale a una sua ipotetica candidatura a Palazzo d'Accursio, l'assessore ha comunque dipinto lo scenario dal quale si augura possa arrivare il prossimo candidato sindaco, e cioè una coalizione larga per aprire un cantiere di confronto con la società e le varie forze politiche. Al futuro primo cittadino, Lepore consiglia di essere vicino alla comunità e soprattutto chi ha i margini. Al PD invece di rimboccarsi le maniche per portare il Paese fuori dalla crisi, tanto sanitaria quanto economica, e tornare a rappresentare la sinistra italiana coraggiosa e militante. L'assessore non teme un nuovo assalto della destra smoderata, la chiama così, e ancora in stato confusionale dopo le regionali. Passiamo ora alla scuola. La ministra dell'istruzione, Azzolina, delega ai presidi la riorganizzazione della ripresa. I dirigenti dovranno collaborare con i comuni per risolvere i tanti nodi ancora da sciogliere. Ce ne parla Leonardo Petrini. Il Comitato Tecnico Scientifico raccomanda un metro di distanziamento, quindi non possiamo accogliere più di 15 o 16 studenti per classe. In quelle composte da 25 alunni, molti di loro dovranno fare lezione fuori. Ma con chi rimangono se non c'è abbastanza personale? Queste le parole di Daniela Turci, dirigente dell'Istituto Comprensivo 1 di San Lazzaro di Savena, che pur essendosi mossa con largo anticipo per assicurare a settembre una ripresa tranquilla per gli alunni, sottolinea i punti interrogativi ancora in sospeso. Mascherine, distanza di un metro tra gli studenti, classi divise e turnazioni in entrata ed uscita, le linee guida che arrivano dal Ministero dell'Istruzione per la ripartenza. La bozza del piano scuola non dà però indicazioni precise sul come riuscire ad applicare queste norme. La Ministra Lucia Azzolina ha scelto di lasciare infatti carta bianca ai presidi. Le maggiori preoccupazioni sono per i più piccoli. L'idea dei turni e delle entrate scaglionate mette infatti in difficoltà i genitori, che dovranno rimodulare i loro orari per permettere ai figli di non saltare la scuola. Economia, una forte diminuzione del PIL nelle regioni del nord-est, e la stima della Banca d'Italia per il primo trimestre di quest'anno. Il servizio di Elisa Grossi. In Emilia-Romagna, già nel 2019, c'era stato un forte rallentamento del PIL. In questa fase di decelerazione è arrivata l'emergenza Covid e nel primo trimestre del 2020 siamo scesi del 5%. È la stima per le regioni del nord-est, indicata nell'ultimo rapporto sull'economia dell'Emilia-Romagna da parte della Banca d'Italia. L'anno scorso il PIL era infatti cresciuto solo dello 0,4% contro il 2% del triennio precedente. Nel secondo trimestre del 2020 la flessione dovrebbe accentuarsi ancora, mentre nell'ultima parte dell'anno ci si aspetta qualche miglioramento. I dati sono stati presentati dal direttore della sede di Bologna, Maurizio Rocca, insieme al collega Marco Gallo. Il documento evidenzia anche i primi effetti economici negativi innescati dalla pandemia, osservati nel primo trimestre del 2020. Calo dell'export, più liquidità richiesta dalle imprese, riduzione delle assunzioni, aumento delle persone inattive. In prospettiva si prevede un forte calo di produzione, reddito e consumi. La strage di Ustica, 40 anni dopo. Sabato l'anniversario. Ce ne parla Alessandro Arena, che ha intervissato per il 15 Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione Parenti delle Vittime. La speranza nella giustizia come antidoto al dolore, il museo come riscatto per la memoria dei morti. A pochi giorni dal quarantesimo anniversario della strage di Ustica, Daria Bonfietti, ex parlamentare e presidente dell'Associazione Parenti delle Vittime, ripercorre le tappe della vicenda, tuttora segnata da aspetti poco chiari. La caduta dell'aereo poco prima di atterrare, la morte delle 81 persone a bordo, l'ombra di un'operazione militare internazionale. Una verità progressivamente emersa, ma alla quale mancano ancora nomi e nazionalità dei colpevoli. Bonfietti attende gli ultimi segnali da politica e magistratura. Tutto pronto intanto per l'anniversario. Si comincia sabato, con i parenti delle vittime a Palazzo d'Accursio, per incontrare il sindaco Virginio Merola e il presidente della Camera Roberto Fico. Nelle settimane successive si terrà invece un ciclo di eventi culturali tra Bologna e Palermo, con chiusura il 10 agosto. Maggiori dettagli nello speciale su Ustica del nuovo numero di 15. Chiudiamo con il basket. Nuove e interessanti voci di mercato in casa Virtus, con Nando De Colò che potrebbe lasciare la Turchia. Ce ne parla Marco Alessandri. La Virtus Bologna sogna in grande. L'indiscrezione dei giorni scorsi, che vedeva l'esterno del Fenerbahce vicino alle V nere, sembra infatti possa trasformarsi in realtà. Decisivo in questo senso l'addio del coach dei Turchi, Zeliko Bradovic, a cui De Colò era legato. Ora quindi la palla passa alla società emiliana, che se vorrà firmare il francese dovrà fare uno sforzo importante. Il 33enne, infatti, ha a Istanbul ancora due anni di contratto a 2 milioni e 6 a stagione. Non sarà facile, dunque, ma la Virtus ci proverà, forte anche della volontà dello stesso De Colò di cambiare aria. C'è un ostacolo, però, a rendere complicata la trattativa. Difficile che un giocatore del suo calibro decida di lasciare l'Eurolega per approdare in Eurocup, sempre che la Virtus non riesca a conquistare un pass per la massima competizione europea. 12 mesi fa si diceva la stessa cosa con Teodosic, poi approdato alla corte di Djordjevic. Ecco perché i tifosi delle V nere sono liberi di sognare. E per questa edizione è tutto, saluti dalla redazione di Incronaca.